Appena chiusi i riflettori sull'isola dei famosi, che ha incoronato come vincitore Marco Mazzoli, Alloy Blasi, la volitiva conduttrice del famoso reality show, ha deciso di concedersi un meritato riposo. Non un semplice weekend di relax, ma un break più esteso, lontano dai suoi figli e dal trambusto dell'Italia. Chanel, Christian e Isabelle, i suoi tre piccoli, si stanno godendo un'esperienza memorabile in America, esplorando le strade scintillanti di Hollywood e l'eccitazione di Las Vegas, sotto l'attenta guida del padre, Francesco Totti, e della sua attuale compagna, Noemi Bocchi. Nel frattempo, Alloy Blasi ha stupito tutti. Ha scelto di abbandonare momentaneamente la scena, di allontanarsi, forse in solitaria, verso una destinazione misteriosa, che finora ha scelto di mantenere segreta. Questo mistero ha suscitato molta curiosità. Dove andrà Alloy Blasi per le sue vacanze? La notoria conduttrice di Mediaset è conosciuta per la sua preferenza per destinazioni remote quando si tratta di prendersi una pausa. Desidera scappare non solo dai paparazzi, ma anche dalla pressione costante che proviene dal mondo dei media. Infatti, in questo periodo, i palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva stanno prendendo e presto si sveleranno i programmi riconfermati, i nuovi conduttori al timone, i programmi che non torneranno e le nuove proposte che animeranno la rete a partire da settembre. Di conseguenza, l'attenzione rivolta a Ilari Blasi è intensa, soprattutto in seguito all'annuncio sorprendente della separazione tra Barbara D'Urso e Pomeriggio 5. Infatti, la storica presentatrice ha scelto di non condurre più il suo programma di punta. In questo scenario, quali saranno le sorti di Ilari Blasi? Riceverà la riconferma per la conduzione dell'Isola dei Famosi? In molti esprimono dubbi, e Ilari, forse per riflettere su queste questioni o semplicemente per cercare un po' di serenità, ha deciso di prendere un volo verso una meta lontana. La destinazione scelta da Ilari per il suo periodo di relax è il Brasile, più precisamente la vibrante città di Rio de Janeiro. Ma i fan sono pieni di interrogativi. Ilari è partita da sola o è in compagnia del suo partner, Bastian Moore? Le voci di una presunta crisi tra i due sono diventate più insistenti negli ultimi giorni. Ma né Ilari né Bastian hanno voluto confermare o smentire queste indiscrezioni. Chissà, forse nei prossimi giorni Ilari deciderà di condividere un selfie con Bastian, svelando l'arcano e mettendo fine alle speculazioni. Per ora, possiamo solo attendere e sperare che Ilari goda di un periodo di riposo sereno e rigenerante.